E adesso cosa mi cantate? Orage Orage, mi dici qualche di qualcosa? È un brano che... Due collaborazioni importanti in questo brano Nella registrazione del disco Chiara Carminati, una poetessa di Udine che ha già pubblicato tantissimi dischi e che insieme a me ha scritto il testo di Orage e poi una violoncellista francese Deborah Walker Ah, ti vedo... Ti vedo ben piazzati su questo aspetto Quindi poesia, grande musica, grande... Bene, Orage Orage Sostantivo maschile singolare Significato Temporale Tempesta Orage de passion Tempesta di passion Orage Sostantivo femminile singolare Significato Rapia, smaglia, furia Verroge E furia E furia L'oscuro soffitto del cielo Non regge Scricchiola Pericolante Non regge Si crepa Crepita Trema Ma ruggisce E non regge Si schianta In tuono Si allarga E sabbia Dovente Intermenda Discesa Tu e Dio A litigare Asbri Serpenti In scivoloso equilibrio Sul tetto bagnato Di video Di video Di video di una ruota Grondi accuse E le scuse Corco Corco Liano Ma ti spravo Mentre il cuore Si spacca Mi spravo Mentre il cuore Si spacca Mi spravo Mentre il cuore Ho sentito il vento Della passione che spinge Mordo e rallento Ma il dorso Già Mi stringe Mi inchioda Le ducche Scoperate Con su te Corace 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 Non mi ha detto Ma troppo Sua dente Per essere Nessun Corace 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 Non mi ha detto Ma troppo Sua dente Orce Orce Corace 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 Grazie a tutti. Teatrali, ricercate, poetiche, si sentono tutte. Grazie, grazie mille. È davvero un bellissimo lavoro, è stato un piacere avervi qui con noi a Special One e spero che tornerete presto. Per noi è un piacere, veramente, grazie. Speriamo di rivederci molto presto. Assolutamente sì, bocca al lupo. Io intanto restate con me qui sul palco perché saluto tutti voi e soprattutto vi ricordo di venire a vedere il nostro sito www.specialone.tv.it e poi invece se volete essere come i Flexus, volete anche provare a cimentarvi, a essere magari dei camera, a meno stare dietro alla regia, insomma nel backstage, non dovete fare altro che scriverci, mandarci una mail a specialone.it. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.